Torna all'Hexagon Film Festival, la terza edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi con sede a Grosseto. La rassegna cinematografica organizzata da Calonomis APS in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura e CCN Centro Storico di Grosseto grazie al supporto del Comune dell'Associazione L'Altra Città. Una scelta ancora più consapevole e allargata da parte dei film, dei cortometraggi che sono arrivati. Sono arrivati fra l'altro cortometraggi da tutto il mondo e questo è bellissimo, ce ne sono da Israele, dal Pakistan, dall'Iran, dal Sud America, dall'Europa. Un festival di cortometraggi e si divide principalmente in due corti in vetrina e l'ultima parte che è proiezione al Museo di Storia Naturale e la serata finale. Abbiamo rinnovato il metodo di votazione con la web app e poi ci saranno tante sorprese alla serata finale che non posso rivelare ancora.